Chef Shinpei Moriyama del ristorante Il Sale, oggi qui ad Alba in occasione della Fiera Internazionale del Tartuffo Bianco. Non ha tenuto solo un semplice show cooking, ma è stato protagonista di un gemellaggio culinario e culturale. Quali sono le sue sensazioni? È stato molto bello, un posto molto bello dove c'era fare il concerto. Sono molto emozionati, sono gente contenta, sono bellissimi. E ho organizzato molto bene anche gli indagini, mi è piaciuto tantissimo. Per l'occasione cosa hai preparato? L'occasione è questo piatto giapponese tradizionale, si chiama Chawamushi. È in base di uova e dashi, è abbinato con il tartufo bianco. Ecco, il tartufo bianco come lo usa nella sua cucina, lo usa, come lo trova? È buonissimo, c'è un profumo proprio unico. Che sento il sapore di Italia, Piemonte.